Un sacerdote, Don Francesco Rimauro, ha venduto il ripetitore costruito da Telespazio 1 Informazioni nel 1989 a seguito dell'autorizzazione della Curia Arcivescovelli di Salerno e dell'allora Comune di Montoro Inferiore e collocato sulle pendici del Monte Salto, nel territorio del Comune di Montoro. Se per quanto attiene la legittimità della vendita sarà la magistratura a fare chiarezza, sul piano morale avvertiamo la necessità di rendere pubblica, dopo mesi di rispettoso silenzio nei confronti della Curia Arcivescovelli di Salerno, retta dall'Arcivescovo Andrea Bellandi, che pure è stata informata dei fatti, una vicenda che non lede solo il patrimonio, l'attività, l'organizzazione dell'attività di informazione sul territorio della nostra emittente, ma la dignità di una comunità intera. Infatti, lo scorso 6 agosto, presso lo studio del notaio Enrico Maria Stasi, in Nusco, il sacerdote ha ceduto il terreno e il traliccio costruito da Telespazio 1 Informazioni a terzi, pur essendo nell'atto consultabile da chiunque interessato presso la nostra sede sociale dichiarato costruito da Telespazio 1 Informazioni. 14.000 euro il terreno e 1.000 euro il ripetitore. Senza entrare nell'aspetto economico della vicenda, di cui pure si occuperà la magistratura, cominciamo a chiedere che vengano date risposte a noi e alla comunità, di cui la nostra televisione continua, seppur con modalità assai diverse e ridotte anche a causa di questa vicenda, ad essere una piccola voce. Per la vendita, il sacerdote aveva bisogno anche di un'autorizzazione di una commissione parrocchiale, oltre che della curia arcivescovile di Salerno? E se sì, la commissione e la curia sono stati messi al corrente dei beni, oggetto di cessione? Perché, visto che il sacerdote sapeva della titolarità della costruzione, ha venduto anche il traliccio, oltre che il terreno, senza peraltro curarsi di ledere i diritti di Telespazio 1 informazioni? E poi il notaio, che ha redatto l'atto, ha valutato l'esistenza di tutte le autorizzazioni. La curia di Salerno ha autorizzato il parroco a vendere il terreno e l'impianto? Il tecnico che ha redatto la perizia, a corredo della cessione, dichiarando che il terreno era libero, senza alcun manufatto. Ha alzato lo sguardo verso il Montesalto, per rendersi conto della presenza di impianti nel terreno oggetto della perizia propedeutica alla vendita? Siamo stati in silenzio da agosto ad oggi. Perché? Per la stessa ragione per la quale abbiamo vietato l'accesso alla televisione a Maghi Televendite Fasulle 899 199. Facciamo le cose nel rispetto di principi che ci hanno condotto tanti anni fa a scegliere tra la legalità, l'onestà e il profitto fine a se stesso. Stiamo conducendo diverse battaglie legali da anni per fare in modo che Montoro non perda anche quest'altro simbolo di aggregazione collettiva. Abbiamo faticato e fatichiamo molto a tenerla in piedi, schiacciati dalla logica delle grandi realtà commerciali. Da oggi però abbiamo deciso di rompere il silenzio e chiediamo di condividere queste riflessioni affinché nella comunità emergano le risposte. Certamente non faremo cadere quell'obbligo morale che abbiamo assunto quando ci siamo fatti carico di portare avanti qualcosa che è stato immaginato e costruito da altri nell'esclusivo interesse della comunità. Cominciamo a chiedere delle risposte e oltre che con quanto detto finora lo faremo con l'ausilio della tecnologia, dei colleghi, degli altri mezzi di informazione che vorranno approfondire questa vicenda. Ci perdoneranno quanti citeremo nella storia che oggi non ci sono più e che sono stati sempre vicini alle sorti della televisione. È una battaglia di verità che facciamo per onorare la loro memoria e la loro disponibilità nei confronti dei montoresi.